l'ottavo mese il secondo anno di dario la parola dell'eterno fu rivolta al profeta zaccaria figlio di berechia figlio di iddo il profeta in questi termini l'eterno è stato grandemente adirato contro i vostri padri tu dunque di loro così parla l'eterno degli eserciti tornate a me dice l'eterno degli eserciti e io tornerò a voi dice l'eterno degli eserciti libro del profeta zaccaria capitolo 1 versi 1 a 3